Felicità! 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 Andrea Donnarumma, il campico di Gnano sta a soffrire ma la finale si tinge di nero-verde. Esatto, è stata una partita molto intensa, il Mele si è giocato la sua partita anche in 10, l'abbiamo meritata, abbiamo una dedica speciale. Il nostro Marius, siamo felicissimi di andare in finale e speriamo di alzare la coppa. Secondo anno consecutivo che il campico di Gnano arriva in finale, quindi grande lavoro anche al di fuori del campo per costruire squadre produttive. Eh sì, diciamo che l'anno scorso la finale è stata persa ai rigori e quindi sicuramente siamo in debito, sicuramente il campico di Gnano è in debito con la fortuna, nel senso che speriamo di alzare questa coppa. Grazie mille e in bocca al lupo! Grazie!